Saiborea, madri di Giuda. Era buon erretto mio figlio, verso di me, tenero e gentile, e amava la sua gente, la gente della sua terra, e odiava i nostri nemici, i maledetti romani, che indossavano abiti di porpora, ma non filano e non tessono, e raccolgono e mietono dove non hanno arato né seminato. Non aveva più di 17 anni, mio figlio, quando fu sorpreso a scagliare frecce contro la regione romana che passava attraverso la nostra vigna. Già a quell'età parlava agli altri giovani della gloria di Israele, e diceva molte cose strane che io non comprendevo. Era mio figlio, il mio unico figlio. Attense la vita a questo seno ormai inaridito, ed è in questo giardino che mosse i primi passi, aggrappandosi a queste dita, che ora sono simili a canne tremanti. Con le mie mani, sì, con queste mani, giovani e fresche allora come l'uva del Libano, riposi il suo primo paio di sandali in un fazzoletto di lino che aveva donato a mia madre. Li tengo ancora là, in quel mobile, vicino alla finestra. Era il mio primo nato, e quando fece il primo passo, anch'io mosse il primo passo. Le donne non viaggiano se non sono i figli a condurle. E ora vengono a dirmi che si è dato la morte, che si è gettato dalla rocca alta per il rimosso di aver tradito il suo amico Gesù di Nazareth. So che mio figlio è morto, ma so che lui non ha tradito. Amava, infatti, la sua gente e non odiava alcuno all'infuori dei Romani. Voleva la gloria di Israele, mio figlio, e sulle sue labbra e nelle sue azioni non c'era null'altro che quella gloria. Quando per le strade incontrò Gesù, mi lasciò perseguirlo. E nel mio cuore sapevo che aveva torto a seguire un uomo qualunque. Al momento dell'addio glielo dissi che stava sbagliando, ma non mi dite ascolto. Non ci danno ascolto i nostri figli. Come l'alta marea di oggi non accetta consigli dell'alta marea di ieri. Non domandarmi altro sul mio figlio, te ne prego. Lo amavo e lo amerò sempre. Se l'amore fosse nella carne, lo brucierei con ferro rovente e sarei in pace. Ma è nell'anima, inaccessibile. E ora non intendo dire più nulla. Va a interrogare altre donne più onorate della madre di Giuda. Va. Va e comprenderai.